Buonasera, questa cartolina creata da regista Egidio Luna ci ha mostrato alcune bellezze di Aula. Siamo in provincia di Massa Carrara e al Palasport La Quercia si disputa il match valido per il campionato italiano Pesi Welter Junior tra Gianluca Branco, lo vedete con i pantaloncini azzurri, e Massimo Bertozzi, lo sfidante, pantaloncini bianchi con banda rossa. Subito un atterramento, subito da Bertozzi, dopo pochi secondi il match si infiamma e volge subito in favore di Branco 28 anni da contiere il 20 luglio nato a Civitavecchia, ha un record di 16 incontri e 16 vittorie. Un titolo conquistato, quello da Branco, il 30 maggio del 97 a Castellamare di Stabia contro Cioffi e poi difeso ai punti contro Strabello il 28 agosto dello scorso anno. Da notare che Branco, che deve proseguire l'azione offensiva dopo il primo KO inferto a Bertozzi, è campione intercontinentale della WBU, soprattutto Noghi, l'ungherese Taios Noghi, il 13 febbraio del 97 a Civitavecchia. È dunque un pugile emergente, dotato di una buona tecnica, non ha un pugno particolarmente incisivo, anche se le prime azioni farebbero pensare il contrario, ma la sua azione spesso è dinamica, è un attaccante pure. Certamente una carriera diversa, quella di Massimo Bertozzi, 31 anni, ha un record di 40 match, 21 vittorie, 18 sconfitte e un pareggio, ma quelle 18 sconfitte non devono comunque ingannare perché Bertozzi è un vero e proprio gladiatore del ring ed è un pugile imprevedibile. Ha disputato diversi titoli italiani, non sempre è stato fortunato e in particolare il 25 ottobre del 97 contro Sandro Casamonica è stato sconfitto per KO alla prima ripresa. Questo match rappresenta per Bertozzi un po' il momento della verità, capire se bisogna andare avanti oppure cercare altre strade, altre soluzioni. Bertozzi tra l'altro ha avuto la possibilità di difendere o di attaccare in diverse categorie di peso, questa comunque sembra a lui la più congeniale. Una prima ripresa dunque che si è aperta con il KO improvviso da parte di Branco, l'altro è il fratello di Sildio, campione del mondo dei pesi medi WBU, una struttura fisica comunque come potete notare completamente diversa, Gianluca Branco è alto 1,74 m, entrambi i puggini hanno fatto segnare alla bilancia 63 kg e 400. Ricordo che siamo al Palasport La Quercia di Aulla, incoraggiamenti da parte dell'angolo di Bertozzi che però è costretto a incassare una serie proprio nel finale e dunque un primo round, nettamente in favore del campione italiano, ricordo 16 match e 16 vittorie. Ecco la grafica proposta dal regista Egidio Luna, sentiamo anche i suggerimenti proprio dall'angolo. Eccoci invece all'angolo di Bertozzi, ha subito un problema all'occhio sinistro. Come stai? E allora, tranquillo, dopo hai fatto le cose bellissime, però non dare competenza, non fare le scelte. Tutto il singolo di Bertozzi alla calma, alla tranquillità, non fare spaventare il primo del K.O. subito dopo pochi secondi. Diceva che Bertozzi è pugile esperto del ring, ma soprattutto il pericolo per lui è rappresentato dalle prime riprese, se riesce a superare indenne le prime 2-3 riprese, allora davvero può essere una serata difficile per Branco, che è un po' un velocista del ring, mentre Bertozzi può essere paragonato un po' a un diesel, viene facilmente sorpreso, ma poi ha grandi capacità di incassatore e soprattutto sa come gestire un match difficile, come un incontro valido per il campionato italiano e soprattutto contro un avversario del calido di Branco. Andiamo proprio a vedere il match con Branco che ha preso il centro del ring. sentite anche i diversi incoraggiamenti da parte dei due angoli, come si inviti soprattutto Bertozzi a non rimanere fermo sui colpi vicino alle corde. E approfitta ogni tanto Branco per dare qualche colpo ai fianchi, per spezzare un po' il fiato all'avversario, e qui va giù ancora Bertozzi, in realtà non ci è sembrato di vedere un colpo particolarmente duro da parte di Branco, che ha avuto anche un gesto di disappunto, quasi dire non l'ho toccato, chissà poi se il regista Luna ci farà vedere al replay quest'azione. Un po' di dubbio, un po' strana, e qui l'attacco è incisivo da parte di Branco, ma lega bene, lega bene Bertozzi. È il momento forse più difficile del match per Bertozzi. È fuori misura Branco, poi insiste colpi larghi che però finiscono sui guantoni, abbassa completamente la guardia Bertozzi. Questo è un po' un difetto da parte di Bertozzi, che tende ad abbassare il jab. È ancora a rischio Bertozzi, Branco prende un po' di tempo. Si sente evidentemente sicuro il pugile di Civitavecchia, allenato da Pietriccioli. è ancora il destro che entra, colpi che fanno male, che tolgono anche un po' la capacità di pensare logicamente. Un momento difficilissimo per Bertozzi. Due atterramenti nei primi due round e la seconda ripresa non è ancora finita. Bene, Branco adesso con l'azione di Jeb e destro, ma Bertozzi, come vedete anche dalla mobilità, sembra essersi ripreso qui. Si aiuta con le corde, poi sguscia via. E attento Branco, entra adesso con il sinistro, ma mancano pochissimi secondi al termine della seconda ripresa con Bertozzi, che va via da una parte all'altra. Secondo la grafica, il suono del gomma sarebbe arrivato anche dieci secondi prima, ma comunque Bertozzi ce l'avrebbe fatto. Sentiamo adesso all'angolo. La dita dietro, il signore con gli occhiali è Benito Virigiardi, uno dei maestri più famosi d'Italia nella storia del pugilato, accompagnato da diverso tempo, pugili del calibro di Tiberio Mitri, di cui davvero c'è un tuffo nel passato, un pugilato glorioso. Ecco qui una bella, ecco il momento all'episodio proposto da Luna, ecco vedete il gesto di Branco quasi a dire, ma non l'ho neanche toccato. Andiamo da vicino, ecco questo è un sinistro, si piega quasi volontariamente, si ha l'impressione Bertozzi le gambe, forse per evitare una combinazione peggiore. Comincio la terza ripresa, comunque sul tabellino di Branco in suo favore, due atterramenti e quindi già in svantaggio di punti, Massimo Bertozzi, davvero in salita questo match per lui, che doveva rappresentare una occasione di riscatto, invece davvero si sta rivelando una serata più difficile del previsto. sentite gli incoraggiamenti da parte dei secondi di Bertozzi, di muovere sempre le gambe, di non offrire, cioè un bersaglio fisso a Gianluca Branco, questi suoi vizi improvvisi per il momento disorientano Bertozzi, 21 vittorie, 18 sconfitte, un pareggio, in una carriera davvero molto lunga, un titolo italiano che è stato inseguito da Bertozzi sin dal 26 marzo del 93, nella categoria dei superleggeri, ma in quella circostanza perse ai punti da Calamati. Poi ancora il 23 luglio del 94, questa volta la sconfitta arrivò ad opera di Perna, c'è ancora il 4 gennaio del 96, Civita Vecchia, Presciutti, K.O. Tecnico alla quinta ripresa. Comunque un pugile di solida esperienza, Bertozzi, che sembra avere già ripreso confidenza con il quadrato dopo quell'inizio un po' traumatico, K.O. subito dopo pochi secondi con il Branco, vediamo come si muove, Bertozzi sul ring, non offre mai un bersaglio fisso, sentite cattivo con il sinistro, ma certamente Branco non dà la possibilità a Bertozzi di dare il meglio, adesso si cambia il scenario, si passa all'angolo di Branco, dove certamente i toni sono più accesi e si pensa più all'attacco, alla finalizzazione della scherma di Branco, fuggere di buone qualità, ma che forse si deve sciogliere un po', vi vedete, non riesce questo salto, finisce sul guantone sinistro di Bertozzi. Almeno due i punti di vantaggio di Branco nei confronti di Bertozzi, siamo al terzo round, ricordo che i campionati italiani si disputano sulla distanza delle dieci riprese, questo terzo round termina ancora in favore di Branco, ma già c'è un maggiore equilibrio, sentiamo proprio l'angolo di Branco. Non so, ma però quando è all'angolo ti isoli i coli, capisci? Allora, l'angolo di Bertozzi. Bellissimo questo scambio verbale, mi hanno chiesto come stai, Bertozzi ha risposto da Dio, capisci? Grande cosa, grande volontà, da parte di Bertozzi. Procoro una fase della terza ripresa riproposta dal regista Fidio Luna e qui è Branco a essere sorpreso dal destro di Bertozzi. Sta per cominciare il quarto round con Branco, forte di due atterramenti, l'arbitro è Salvatore Avola, come ricorda la grafica. Sembra più convinto Bertozzi all'inizio di questo quarto assalto, anche se ha sempre questo difetto al nostro avviso, poi sarà un atteggiamento tattico voluto, di mantenere il jab basso, ma così si offre all'avversario in maniera più scoperta. un po' di pausa da parte di Branco, pensa di essere in vantaggio di punti. Gira, gira Bertozzi ma incappa nel jab di Branco, finisce sulla spalla, quindi non ha efficacia questo colpo. Mettite le indicazioni dall'angolo di Branco che qui però sembra subire e poi reagisce con un gancio destro Branco, poi ancora una combinazione al mento di Branco, ma Bertozzi si è svegliato, non ci sta a fare la comparsa, vedete ogni tanto qualche esercizio di defaticamento con le braccia che vengono scaricate di lato. Al corpo adesso Branco. Sentite, non lo fate riprendere, hanno detto a Branco, e in effetti il pericolo per Branco è proprio questo, cioè che Bertozzi lentamente stia recuperando. Bene Bertozzi, bene Bertozzi, è una fase favorevole a lui, sta mettendo in difficoltà Branco, inspiegabilmente fermo, la sua grande carica e il suo dinamismo si sono improvvisamente affievoliti su questo assalto di Bertozzi, che invece è più vivace, più creativo in questa fase finale del quarto round, e Branco è rimasto lì fermo alle corde. Adesso il sinistro che sorprende nettamente Branco, momento di difficoltà per Branco, che cerca di reagire, si aggrappa all'orgoglio, ma è bravo Bertozzi. Bravissimo a superare il momento di grande disagio psicologico, e Branco, per la prima volta nel corso del match, è in affanno. Bene, ancora il destro di Bertozzi, e questa è una ripresa che assegniamo a Bertozzi, dopo due riprese in favore nettamente di Branco, la terza possiamo definirla pari, la quarta, la quarta è a nostro avviso di Bertozzi, e vogliamo anche con questo un po' premiare il coraggio dello sfidante, che finalmente si è svegliato dopo due riprese un po' vissute in letargo, Branco forse si è fidato troppo del vantaggio, ha creduto di poter disporre dell'avversario a proprio piacimento, invece non è così perché Bertozzi, come avete visto da questa azione a realizzatore riproposta dalla regista Luna, ecco, sentite, non va bene. a vedere quello che sai fare, e poi la domanda, con un'ombra, cosa ti sta succedendo? Il Branco che nascondeva un po' lo sguardo, perché in effetti non è il pugile brillante delle prime due riprese, adesso vediamo se l'orgoglio di Branco sorreggerà questa azione nella quinta ripresa, e fino a che punto sarà possibile contrastare il risveglio di Bertozzi, che a nostro giudizio ha vinto meritatamente il quarto round, due strutture fisiche anche piuttosto diverse, più compatto Branco, dinoccolato, quindi in giulina Bertozzi, anche se al peso, come abbiamo detto, entrambi hanno fatto registrare 63-400, ma attenzione ancora questa fase interessante del match, certamente Branco si trova davanti non lo stesso pugile che ha affrontato nelle prime due riprese, e qui ancora è il sinistro di Branco che va ad abbattersi su Bertozzi, ma senza danni visibili, vedete che avanza Branco ma senza colpire, ne approfitta Bertozzi per far assaitare il suo jab, ecco il sinistro puntuale, questo dà anche un po' la capacità di capire come Bertozzi sia lucido, dall'angolo è partito il suggerimento sinistro, immediatamente Bertozzi non si è fatto pregare due volte, ha fatto scattare, vuol dire che il pugile è attento, sente, ascolta i secondi, e adesso ancora una fase favorevole a Bertozzi, dotato di grande coraggio, ne approfitta per mettere a segno qualche colpo al fianco, forse Branco qui tiene con il sinistro il collo dell'avversario, non c'è l'intervento dell'arbitro, finora un match correttissimo, e adesso anche di una buona intensità, Branco in difficoltà in questa fase del match, è chiaro, è ancora in vantaggio di punti, ma non è il Branco che siamo abituati ad ammirare, è soprattutto un Branco che ha saputo costruire una buona carriera anche a livello internazionale, ricordiamo infatti che è campione intercontinentale della WBU, il paese di Walter Vione, e adesso suggeriscono a Bertozzi di allontanarsi, di non insistere troppo nell'azione d'attacco, potrebbe incappare in qualche colpo d'incontro, si riscalda il match anche all'angolo di Bertozzi e a quello di Branco, i suoi giurimenti si moltiplicano, sentiamo cosa dicono proprio all'angolo di Bertozzi, hai quasi pareggiato i conti, hai quasi pareggiato i conti, vedete come si ricorda anche al ferro per ridurre l'ematoma sotto l'occhio sinistro, un libido vistoso, ma Bertozzi è in ottima condizione, è Branco che continua a essere un vantaggio di punti, ma questa ripresa comunque complessivamente pari al nostro giudizio, non può essere così tranquilla, questa signora che vedete è Rosanna Conti Cavini, l'organizzatrice del match, sta per cominciare il sesto round, con Branco, sulla sinistra del teleschermo con i pantaloncini azzurri, Bertozzi i pantaloncini bianchi con banda rossa, Branco dicevamo è in vantaggio di punti, ma deve fare di più, deve osare se non vuole subire un improvviso ritorno di Bertozzi, uno specialista in questo genere di match, match che spesso sembravano ormai senza storia, sono stati invece completamente trasformati da Bertozzi, un fuggile che sembra fatto di gomma per come si muove sul ring, ma i suoi pugni sono efficaci, gli avanza sempre Bertozzi, non si ferma mai, mentre dall'angolo di Branco, sentite, si invita a fare pressing, a non dare la possibilità a Bertozzi di pensare, di costruire azioni, bene adesso Bertozzi con un aggancio sinistro, cerca di rispondere Branco, sa legare bene Bertozzi, un'esperienza certamente notevole, quella di Bertozzi, 40 match contro i 16 di Branco, tre anni di differenza tra i due, Branco è nato nel 70, Bertozzi nel 67, comunque Bertozzi dimostra ancora di poter reggere validamente il ring, indipendentemente dall'esito che avrà questo incontro, qui bene Branco con il sinistro, sorprende Bertozzi che a sua volta risponde con il jab sinistro, ne approfitta ancora Bertozzi per mettere qualche colpo ai fianchi, a vuoto adesso Branco che colpisce anche sotto la cintura con il sinistro, di fronte Branco con un'efficacia, bene adesso Branco, buona questa combinazione sinistro-destro, e ancora Branco che ha sicuramente un accugilato più pulito, ma ripetiamo come intensità sta soffrendo il ritmo proposto da Bertozzi che come un'ombra avanza, e siamo sempre lì vicino alle corde, forse ha subito un colpo con l'interno del guantone Branco, termina anche questa ripresa a segnare proprio al campione, in virtù della pulizia dei suoi colpi, ecco infatti i complimenti all'angolo di Branco, diciamo che è allenato da Pietriccioli, il Gianluca Branco, dietro il cancio sinistro, lo iso, destro il cancio sinistro, sto montando, la raccomandazione di doppiare i colpi, ecco Bertozzi non riesce con il sinistro a graffiare ed ecco puntuale invece il sinistro bello efficace di Branco. Adesso siamo nella seconda parte del match, con la settima ripresa, con questa ancora quattro round, sono lunghissimi, dodici minuti sul ring, le tritte dei spettatori sono davvero un'eternità, anche dieci secondi in questo difficilissimo sport rappresentano spesso l'occasione per capovolgere completamente un match, anche di meno, e quindi ancora tutto da scrivere, volendo questo incontro, ripetiamo che Branco ha avuto la possibilità di vivere un avvio velocissimo con un riterramento di Bertozzi nel primo e nel secondo round, ma poi Bertozzi si è risvegliato, ha fatto su alla quarta ripresa e adesso è lì, certamente dà fastidio a Branco, che non riesce, pur mantenendo il vantaggio, a imporsi in maniera netta, chiara, decisa. Quindi un titolo italiano tutto sommato incerto, incontro finora corretto, soltanto un livido sotto l'occhio sinistro di Bertozzi, l'intervento medico sarebbe immediato, una delle curiosità proprio del match è legata al medico di Bordoring, ed è il sindaco stesso della città di Aulla, Lucio Barani, un sindaco che ho passato anche alla storia, se così vogliamo dire, della città per alcune iniziative come il cimitero degli animali, il cartello antipasseggiatrici delle strade della città di Aulla, così tanto per citare qualche iniziativa. Ma a parte queste curiosità andiamo a vedere proprio il match, siamo alla settima ripresa e Branco sulla sinistra, viene richiamato adesso dall'arbitro, un round un po' di studio tra i due, anche perché finora, nonostante i colpi non siano stati tantissimi, l'intensità è stata piuttosto elevata. Adesso sembra che i due boxers vogliono un po' tirare il fiato, e almeno per il momento non ci sono state azioni significative, soltanto come potete vedere degli accenni di azione, ma i colpi finora sono stati doppiati, anche adesso se Bertozzi ci prova in qualche modo, lo vedete, terminano sempre fuori misura. Per terminare questa settima ripresa, sentite proprio dall'angolo, quando si ode il 10 o il 5, è un modo per avvertire il pugile che sta finendo la ripresa, ma anche per incitarlo ad accelerare, a dare un po' più di sprint all'azione. Ecco un primo piano dedicato dal regista Luna alla balletta della serata. Andiamo a vedere il match con questa fase al replay, fuori misura, i sinistri di Bertozzi. Avete visto l'occhionino strizzato all'angolo, vuol dire lo tengo, non lo lascio scappare più. Ancora suggerimenti intensi all'angolo di Bertozzi, sta per cominciare l'ottavo round, speriamo possa avere una velocità diversa rispetto alla settima ripresa che abbiamo visto poco fa e che non ha offerto in effetti spunti degni di nota. Ottavo round, ancora con Branco, che a nostro avviso ha una margine consistente di vantaggio, siamo nell'ordine di 4-5 punti. A Bertozzi può sempre dare delle sorprese e dei fastidi. Non tenere, dice l'arbitro a Branco. Comunque finora un match davvero pulito, senza scorrettezza. sentite anche come dall'angolo giungono dei segnali per invitare proprio Branco ad attaccare, a doppiare i colpi. Ci sono soltanto degli accenni ad avanzare, ma niente di concreto. ecco, finalmente un sinistro di Branco. si studiano molto i pugili. dall'angolo di Branco c'è un certo disappunto perché si invita proprio il pugile di Civitavecchia a portare i colpi, ma a dispetto di questi suggerimenti, Branco sa bene che Bertozzi è insidioso, anche quando tiene un atteggiamento tattico così apparentemente spavaldo con il jab sinistro abbassato. Soprattutto difensiva, adesso l'azione di Bertozzi. Il Branco sembra farsi più incisivo con questo destro. Pericoloso questo attacco. A testa bassa poteva agevolare una reazione di Bertozzi, che per fortuna di Branco non c'è stato. Molte pause. Adesso non è davvero un match spettacolare, ma anche Branco comincia un po' a essere stanco e poi è anche consapevole del suo vantaggio. Bertozzi fa il possibile, sa di trovarsi di fronte a un pugile dal pugno secco che potrebbe chiudere il match in qualsiasi momento e miscelando queste componenti si assiste ovviamente a un match che dal punto di vista tattico è interessante, ma con una quantità di colpi certamente non ci si può aspettare molto. è terminata anche l'ottava ripresa, adesso bisogna vedere in queste ultime due riprese cosa inventa Bertozzi, perché deve ridurre ovviamente ancora lo svantaggio, mentre Branco non può correre rischi e deve cercare di chiudere, se possibile, il match prima. Vediamo con l'aiuto del regista Luna questa frase è apparentemente favorevole a Branco, ma in realtà i colpi scivolano sui cantoni o sulla braccia di Bertozzi, che si sa difendere, al di là di quel addio disastroso che certamente è inciso non tanto nel morale quanto sul cartellino del pugile. Due KO uno nella prima, l'altro nella seconda ripresa. Peccato, peccato, perché Bertozzi poi ha fatto vedere davvero cose buone, specialmente nella quarta ripresa. ancora adesso la nona ripresa, penultima. Branco qui sembra avere un po' più di coraggio, non per chi non ne abbia tutt'altro, ma è sembrato subito accontentarsi di quanto fatto nei primi momenti del match. Ripetiamo, siamo abituati a vedere un altro pugile, ben più determinato, anche se ci rendiamo conto che Bertozzi, grande esperienza. Ecco qui una buona combinazione, destro-sinistro-destro, di Branco. Bertozzi subisce, va via, incassa con grande disinvoltura. Biancoia però lo stringe all'angolo. Guardate la difesa efficacissima di Bertozzi, che disorienta Branco, che poi però si avventa una serie di colpi. Bertozzi ancora lì, con grande coraggio, grande determinazione. Non riesce proprio Branco a mettere a segno un colpo ben preciso. c'è stata questa sfuriata che Bertozzi ha incassato, dimostra anche di avere assorbito con una certa naturalezza. Comunque è nettissimo il vantaggio di punti ora in favore di Branco. Ancora l'inseguimento di Branco nei confronti di Bertozzi. Ecco ora una serie favorevole proprio al pugile di Civitavecchia. E però se è anche girato, Branco si lamenta nei confronti dell'arbitro. Ancora buono Branco, ma deve continuare, deve dare consistenza alle sue azioni. Parte Bertozzi, ma rischia di subire il colpo d'incontro di Branco, che adesso è più baldanzoso rispetto a poco fa, dopo una settima ripresa anonima da parte dei due pugili, ora Branco è nettamente più deciso. Attenzione perché dal guantone sinistro di Bertozzi si è staccato un pezzo di nastro. L'arbitro potrebbe anche intervenire per consentire ai secondi di tagliarlo perché anche se può magari sembrare banale quel pezzo di nastro che è libero di volteggiare in realtà può essere davvero pericoloso per gli occhi dell'avversario, colpi di striscio che possono davvero fare male, procurare delle ferite. e qui termina la penultima ripresa. Quindi vedete, ecco l'arbitro adesso ha indicato ai secondi di tagliare, di provvedere. Sentiamo cosa dicono all'angolo di Branco. mi chiede la borsa del ghiaccio a Bertozzi chiedono a Bertozzi di anticipare Branco colpi lunghi e via. E guardate sempre come Bertozzi ha da questo atteggiamento un po' disincantato con una guardia molto bassa. Dovevo dire che Bertozzi è stato brevissimo dopo i due atterramenti a reagire e mettere in difficoltà Branco nella quarta ripresa. Ultimo round con Branco che a questo punto potrebbe perdere il titolo italiano soltanto in caso di KO da parte di Bertozzi che si gioca tutto dunque in questi ultimi due minuti e cinquanta o poco meno. Una soluzione che a dire il vero gentile degli spettatori appare piuttosto improbabile anche perché Bertozzi ha sì reagito ma non sembra in grado di proporre contro Branco questa soluzione un Branco che ha un po' tirato in barca nella parte centrale del match ma che quando è stato sollecitato ha saputo dare una dimostrazione di quanto valga il suo pugilato con degli attacchi improvvisi dunque vogliamo adesso vedere Branco contro avversari anche di spessore internazionale perché il pugile di Civitavecchia merita anche altre opportunità altre chance certamente non può bastare il titolo intercontinentale della WBU acquistato il 13 febbraio del 97 Civitavecchia contro l'ungherese Novi a buone qualità Branco ma deve subito confrontarsi con altre realtà probabilmente più dure mentre qui protesta per una testata subita dicevamo anche contro realtà contro pugili che lo possono davvero mettere alla frusta ma soltanto in questo modo Branco può crescere avere uno spessore mondiale e crediamo che al di là di questo match i pugni di Branco di Gianluca Branco siano davvero preziosi Silvio il fratello è già campione del mondo della WBU nei pesi medi ottima qualità anche da parte di Silvio Branco vedete qui la reazione nei confronti di Bertozzi anche per Bertozzi vale un discorso incoraggiamento perché merita ancora di combattere merita ancora di restare sul ring l'ho dimostrato questa sera mostrando grandissima lucidità grande coraggio determinazione ma il match non è ancora finito vediamo proprio questi ultimi secondi con questo colpo di incontro un destro di Branco che sorprende Bertozzi ma Bertozzi si avanza grande coraggio da parte di Bertozzi che però vede sfumare ancora una volta l'obiettivo del titolo italiano anche se anche se nella categoria di Walter Junior sta per terminare il match e il titolo resta dunque nelle mani nei pugni di Gianluca Branco ecco Bertozzi un'inquadratura del pubblico di Aulla ecco qui Bertozzi addirittura va a hissare Gianluca Branco e questo è già un implicito riconoscimento che la corona resta resta a Civitevecchia però bravo Bertozzi bravo Massimo Bertozzi che ha combattuto fino all'ultimo si pensava a dire vero a un epilogo immediato del match dopo i primi due atterramenti mentre vedete che l'arbitro il signor Salvatore Avola va a consegnare il suo giudizio tra poco sentiremo proprio la lettura del verdetto ma non ci sono dubbi Branco ha copulato sul nostro tabellino almeno sei punti di vantaggio nei confronti di un generosissimo Bertozzi ma certamente soltanto il cuore non può bastare il coraggio bisogna anche avere delle qualità in attacco che Bertozzi questa sera almeno è riuscito a esprimere soltanto in parte Bertozzi comunque deve continuare perché ha mostrato di essere ancora pugile lucidissimo attento mentre deve continuare sia pure con diverse motivazioni soprattutto con diversi obiettivi Gianluca Branco che tuttavia deve affinare qualcosa sul piano della determinazione e anche perché no su quello della tattica troppe volte abbiamo sentito nel corso del match dall'angolo di Branco giungere dei consigli preziosissimi e con le qualità di Branco se sfruttati avrebbero certamente dato dei risultati positivi e Branco invece spesso ha indugiato ha avuto stato un po' restio ad accettare questi consigli e Bertozzi ne ha approfittato per far prendere corpo alla propria azione ancora qualche secondo qualche istante prima del verdetto ci siamo quasi l'arbitro Avola che ha chiamato Bertozzi alla destra del teleschermo e Branco che scuote un po' la testa vedete forse non è contento neanche lui la vittoria non è in discussione diceva certamente poteva arrivare in maniera ecco sentiamo proprio il potere 4 punti più equilibrio per Capini 3 punti 7 punti dunque resta campione d'Italia Gianluca Branco l'avevamo detto ma adesso dopo questa diciassettesima vittoria consecutiva Branco deve soltanto crescere pensare a confermare non soltanto il titolo italiano ma anche puntare tra guardi più ambiziosi bene tutto da Ulla grazie per l'attenzione gentili telespettatori e a voi tutti la più cordiale buonanotte